un attimo ragazzi uno alla volta che è arrivato per primo io sono arrivato prima io non mi parlare sopra no tu non mi parlare sopra ma che cazzo ragazzi non c'è bisogno di scaldarsi adesso ma tu che cazzo vuoi? ma te che cazzo vuoi? ma tu sai chi so io? e te non conosci l'amici mei ah perché te i miei conosci ti presento Air Dawson Air Plaza Air Flash e ti presento Air Prepuzio io ti presento i miei Valentini Purosangue Luca Maria Paolo Emilio per gli amici Emilio e Luigi detto Gino ma tu sai perché mi chiamano Air Prepuzio? comunque tu chi cazzo sei? no tu chi cazzo sei? dillo in modo più aggressivo ragazzi la situazione sta degenerando basta aspetta un po anzi sai che ti dico che sono superiore è arrivato prima lui e che cazzo sei cittadino io sono arrivato dopo di io ah ringrazio a cielo che c'è sta in mezzo al gorilla sa? ringrazio a dio c'è sto sarchiavone ragazzi sennò tante le facce li pagina sennò tante le facce si fa sennò tante le facce si fa Ma dove cazzo vedi andà con queste facce da indovina chi è? Sono arrivati con questo fisico dei giocatori dei Tetris Io ti distruggo, devi vedere come ti distruggo Voglio proprio vedere Zazza, scelgo te Ma non fa un cazzo E' la mossa, sei su un Zazza? Vabbè, alongi, scelgo te Posso capire se ho di fronte un Pikachu o un Charmander Ma un Zazza, dai! Dai! Prepuzio, scelgo te Oh, ma sai perché mi chiamano il Prepuzio? Oh, vinta te sti cazzo di inchiali Che cazzo è? Ma te che cazzo è? Ma se posso dire che cazzo è? Ma te che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? Ma te che cazzo vuoi? Ma te che cazzo vuoi? Ma stai su cazzo vuoi? Vabbè, n'africa, togliati dalle palle, eh E te chi cazzo sei io? Grazie per la visione!